Squale e razze sono imparentati tra di loro perché hanno delle caratteristiche comuni, tra cui uno scheletro cartilagineo, una pelle ruvida, un metabolismo molto lento e una caratteristica molto particolare di questo gruppo è che hanno due organi riproduttivi. Questi organi riproduttivi però non vengono utilizzati tutti e due durante l'accoppiamento, ne viene utilizzato uno solo. L'accoppiamento è anche piuttosto cruento perché la femmina viene veramente morsicata dal maschio per essere trattenuta durante l'accoppiamento. Pensate che addirittura le femmine hanno una pelle più spessa per questo motivo. Una volta che si sono accoppiate le razze poi danno luogo a quelle che sono delle uova che sono contenute all'interno di astucci. Questi astucci vengono deposti sulla sabbia che sono diversi per ogni specie. Per cui noi che troviamo regolarmente queste uova nella nostra vasca tattile dove le razze possono, seguendo determinati accorgimenti, addirittura anche essere accarezzate, noi troviamo queste uova e sappiamo esattamente quale specie tra le nostre ospitate all'interno dell'acquario hanno deposto queste uova. Queste uova poi si schiudono dopo un periodo di tempo più o meno lungo a seconda della temperatura a cui le teniamo e nasce una razzetta perfettamente formata che è in grado di nutrirsi e con piccoli accorgimenti noi riusciamo a svezzarle e a farle diventare gli adulti che poi voi potete vedere nella nostra vasca. Contrariamente a quanto si pensa e a che cosa ci hanno fatto credere per anni, gli squali in realtà non sono animali così familici. Pensate che all'interno del nostro acquario noi cibiamo i nostri squali tre volte alla settimana, a differenza dei dei fini che invece mangiano quattro volte al giorno. Noi cibiamo i nostri animali regolarmente e li conosciamo tutti uno per uno, in questo modo noi possiamo registrare quello che loro mangiano e tenere sotto controllo il loro stato di salute. Come curiosità vi posso raccontare che noi abbiamo lo squalo femmina di squalo grigio più anziano che esiste in Europa, che ha circa 50 anni, che qualche anno fa a un certo punto ha deciso di smettere di mangiare per qualche ragione e non ha mangiato per mesi, per poi riprendere a mangiare senza nessun problema. Grazie al fatto che non sono animali così familici noi ci possiamo anche immergere regolarmente con loro in vasca, senza dimenticare però che loro hanno un sesto senso, questo sesto senso gli permette di percepire quelli che sono i campi elettromagnetici, quindi probabilmente grazie a questo senso loro in qualche modo ci riconoscono, noi conosciamo loro ma loro conoscono anche noi, quindi ogni volta che ci immergiamo noi dobbiamo essere comunque molto tranquilli perché se no loro si possono accorgere del nostro stato di nervosismo e agitarsi di conseguenza.